Avrebbero voluto occupare una palazzina in via De Felice a Catania, ma stamani sono intervenute le forze dell'ordine che hanno effettuato lo sgombero e accompagnato in questura per l'identificazione tre persone che già si trovavano all'interno della struttura. Alcuni giorni fa in via Furnari era stato disposto un altro sgombero fra le proteste di decine di famiglie, alcune delle quali ribadivano l'utilizzo dell'immobile come usucapione. Lo sgombero di oggi è scattato dopo la denuncia del commissario straordinario che gestisce il bene che sarebbe dovuto diventare un alloggio per non vedenti, ma da anni è disabitato. Il Comitato Casa per Tutti ha deciso che poteva essere recuperato perché è una risorsa per la città di Catania, un palazzo in centro che potrebbe contenere oltre 30 alloggi, che potrebbe essere per quanto è grande anche vedere la nascita di un ambulatorio sociale, di uno sportello per chi è senza casa, di un dopo scuola. Potrebbe essere tutto questo e invece oggi è stato richiuso per lasciarlo al degrado e all'abbandono.